Si chiude con polemica la frequentazione Lampo tra Giulia Latini ed Andrea Melchiorre Dopo un mese di conoscenza, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne accusa il modello, nonché lui stesso ex corteggiatore del dating show di Canale 5, di presunto tradimento Dopo un mese di conoscenza, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne accusa il modello, nonché lui stesso ex corteggiatore del dating show di Canale 5, di presunto tradimento Le diatribe social di Giulia e Andrea stanno tenendo banco sui social in questi giorni I due si combattono a colpi di storio su Instagram La guerra arriva appena qualche qualche ora dopo l'ufficializzazione del rapporto «Io e Giulia ci stiamo frequentando», spiegava Melchiorre in un video lo scorso giovedì in risposta ai pettegolezzi e alla fine qualcosa è andata estremamente Nella serata di venerdì, Melchiorre sarebbe stato beccato in discoteca a Porto Cervo mentre baciava un'altra ragazza Il web lo ha accusato subito di tradimento Lui, però, ha negato prontamente, spiegando che la storia con Giulia era già chiusa prima di quella notte Per evitare di prendere in giro lei, Giulia, che è una ragazza d'oro, ho deciso di chiudere la relazione, spiega via social, anche per non compromettere il rapporto che c'è tra me e lei Sono andato a fare serata ieri e mi sono fatto gli affari miei Sto in vacanza e mi diverto, ho 23 anni Secondo la diretta interessata, però, non ci sarebbe stata alcuna rottura prima del fattaccio ed anzi sarebbe venuta a conoscenza della serata bollente passata da Andrea solo tramite un articolo uscito su una testata online Se non usciva l'articolo io non avrei saputo nulla Sì, sono andato a fare serata